Quelle le più difficili, quando hai dato il mondo. Nadia, non ti si vede. Posso fare il titolo? Un po' meno. Un po' meno. Un po' meno. Ok. Ok. Eh? Posso fare l'età? Devo fare sbagliato nella vita. Ah, non ti si vede! Eh, mamma non ti si vede, poi mamma viene. Non lo vogliamo! Cazzo, allora non funziona! No! Weeeey! Scusate! Via, pronte? E... No. Scherziamo! La storia che sei ma... Lì, ralaccino! Non lo vogliamo! Grazie! Non ti siate! Ma che cosa? Non lo vogliamo! guardiamo giù le patrie come si consapevole guardate che stai facendo? è successo buona sua ho sbagliato ma cosa è successo? cos'è successo? sono sciccolate scusami però le altre bamboline sono meglio io sono una bambola poi prendo il meglio il meglio si è invece trovato è successo è successo è successo è successo